Sant'Al buongiorno, oggi lunedì iniziamo direttamente molto tranquillamente la settimana quindi ti darò semplicemente alcune cose da leggere che parla della cucina in Italia quindi degli usi e costumi della cucina in Italia e di come per esempio i nostri costumi, usi e costumi a tavola sono diversi da quelli equatoriani, quindi io ti chiederò semplicemente di leggere alcune cose e di rispondere a tre domandine, fatto questo poi tranquillamente andremo avanti un altro giorno in più riguardo gli italiani a tavola e gli equatoriani a tavola e dopo cambieremo direttamente di argomento e parleremo di qualcos'altro, però per adesso io ti do semplicemente scusami un attimo, eccomi qua allora andiamo a pagina, ovviamente siamo ancora al libro 1 andiamo a pagina, torniamo indietro di poco noi eravamo, abbiamo fatto la parte sulla famiglia per la settimana prossima che io ti con... cioè scusami per la settimana prossima per la settimana scorsa abbiamo fatto e che continua questa settimana però così poi per staccare facciamo direttamente questa parte qua che è gli italiani a tavola, ok? quindi faremo questa parte pagina 74, pagina 75 io poi ti mando sidukai tre piccole domande da rispondere qualsiasi cosa scrivimi ciao ciao